Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad una nostra nuova intervista. Sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi, stiamo parlando di un teologo di chiara fama, mi riferisco a Monsignor Nicola Bux, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Monsignore, vorrei cominciare chiedendole un parere sul clima che si respira ai giorni nostri in base all'emergenza Covid. Anche lei è preoccupato? Il clima sì, vedo che suscita reazioni differenziate, ma non diversamente da tutti gli avvenimenti di portata mondiale di cui siamo spettatori. Poi naturalmente dipende dai soggetti, c'è chi è più fiducioso, chi è più pessimista. Noi come cattolici sappiamo che nulla accade senza lo sguardo supremo della provvidenza divina e siccome noi non possiamo avere nessun possesso del futuro, è vero, dobbiamo semplicemente fidarci e avere fiducia e pregare. Ha l'impressione, Monsignore, che queste reazioni di panico siano anche il risultato di una società che è diventata improvvisamente troppo materialista? Ma certamente si vive come se Dio non esistesse, anche se Benetto XVI anni fa aveva detto ai cosiddetti laici o atei devoti di provate a vivere come se Dio esistesse, perché converrebbe. Ma si sa che la paura prende piede quando manca uno sguardo superiore, uno sguardo alto alle vicende della storia e quindi si finisce per essere condizionati. O si cade nel pressappochismo, come ho sentito anche da parte di qualche relato, è vero, cioè dire che Dio non c'entra con tutto quello che accade, ma chi dice una cosa del genere dovrebbe secondo me domandarsi perché mai fa l'uomo religioso, insomma. Il proverbio popolare dice non muove foglia che Dio non voglia, quindi certo non è che Dio è un castigamatti che manda in maniera quasi spietata i castighi, ma certamente si serve di tutte le cause seconde della storia per volgere a buon fine tutto quello che accade. Monsignore, anche la Chiesa Cattolica ha avuto un rapporto con questi strani tempi un po' particolare, insomma nel periodo caldo della emergenza sono state interrotte le funzioni religiose e gli uomini morti, non hanno avuto diritto neppure ad una degna sepoltura e a un funerale, è normale tutto questo? No, tutto questo è stato oggetto proprio all'interno stesso della Chiesa di non poche critiche da parte di vescovi, sacerdoti e fedeli perché proprio in un momento così calamitoso, così particolare, tra l'altro sono previsti i sacramenti anche dallo stesso diritto canonico, soprattutto nei momenti di emergenza, si pensa ai terremoti, alle varie calamità e quindi anche alle epidemie, dal ton della storia lo insegna, ci sono fior di opere d'arte in cui si vedono vescovi che passano attraverso gli appestati a fare comunione, a dare i sacramenti, quindi sì e il comportamento da non poche è stato definito proprio di una gerarchia che ha perso la fede o quantomeno l'ha notevolmente attutita, l'ha ridimensionata, ha dato più come dire importanza alla salute del corpo che alla salvezza dell'anima, dimenticando del tutto le parole di Gesù Cristo nel Vangelo che dice di non aver paura di coloro che possono uccidere il corpo ma non hanno potere sull'anima e purtroppo così non è stato e credo che stiamo già pagando le conseguenze perché da quello che si sente pochissimi fedeli sono ritornati in chiesa dopo tutte queste vicende, anche perché in maniera dissennata da parte di esponenti della gerarchia e quant'altri è stato detto che tanto andare in chiesa o non andare era la stessa cosa, ricevere i sacramenti o meno non cambiava granché e quindi se i fedeli hanno come dire hanno metabolizzato l'avvertimento si stanno comportando come tali, mi pare che recentemente un parroco di Milano abbia detto che sono tornati in chiesa solo il 30% di quelli che frequentavano la sua parrocchia. Abbiamo assistito a scene particolari con i carabinieri che interrompevano funzioni religiose, secondo lei la gerarchia ecclesiastica è stata troppo morbida nel criticare, nello stigmatizzare questi accadimenti, se li hanno stigmatizzati, che poi non è neanche detto. Ma il problema è che forse la gerarchia ecclesiastica o era ignara, spero di no, o non ha voluto usare gli strumenti che pure il diritto canonico mette a disposizione della stessa gerarchia e cioè quello di stabilire essa i criteri per l'applicazione di misure sanitarie, quindi certamente l'autorità sanitaria statale ha le sue responsabilità e i suoi doveri, ma non è che la chiesa deve passivamente accettare tutto questo, può benissimo applicarli secondo le esigenze proprie, d'altronde abbiamo assistito, come è stato osservato da non pochi, ad un paradosso, cioè che la gente poteva andare nei supermercati a fare rifornimento con tutte le attenzioni del caso, ma non poteva andare in chiesa perché le chiese erano chiuse o comunque l'accesso era così limitato da scoraggiare. Lei prima diceva che in tempi passati l'insegnamento degli uomini di chiesa li portava ad abbracciare le brosi nel mezzo di epidemie molto gravi, mai la chiesa si è chiusa in se stessa. Questo è un cambio di paradigma epocale, ci sono altre epoche storiche come questa dove la chiesa ha preferito seguire le priorità del mondo e non quelle indicate dal Cristo? Ma guardi, durante il periodo famoso della Spagnola, cioè un secolo fa, indubbiamente ci furono dei momenti di precauzione circa la partecipazione alle cerimonie religiose, eccetera, ma non si arrivò a una chiusura indifferenziata e prolungata da parte della Santa Sede, penso a Papa Benedetto X V, che era il Papa della Prima Guerra Mondiale. Quindi sembra che sia stata proprio la prima volta e forse è un sintomo preoccupante della crisi di fede che ha attraverso la chiesa, non lo dico io, lo ha detto Benedetto XVI alcuni anni fa, tant'è vero che l'anno prima di rinunciare al pontificato proclamò l'anno della fede, perché era consapevole che è in crisi la fede. Cosa vuol dire la fede? La fede significa in due battute credere che il Signore è presente e opera in mezzo a noi. Le faccio un esempio, oggi c'è questa sorta di ecologismo panteista, cioè si crede che la natura sia una sorta di divinità che fa i rispetti, che si vendica, che fa quello che vuole in un momento e poi ne fa altro in un altro momento. Ora questa visione panteistica della natura dimentica una verità profonda della dottrina, dell'insegnamento cattolico, cioè che il Signore non solo ha creato l'universo, ma continuamente lo sorveglia e lo tiene in vita. Quindi non è che sia andato a fare un viaggio da qualche altra parte, questo fa parte dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, quindi il Signore cura la creazione, quindi anche se noi potessimo compiere dei guasti, anche se onestamente i guasti che l'uomo può fare alla natura sono come il solletico dei Lillipuziani, il famoso episodio di Gulliver e Lilliput, che più che qualche dissesto transitorio non può provocare, tant'è che poi la natura, lo abbiamo visto, lo hanno detto anche in questi mesi, per un po' di tempo che l'uomo è stato più al suo posto, eccetera, si è subito rigenerata. Quindi cosa vuol dire questo? Che il Signore vede, provvede, come dice il proverbio. Quindi sono state dette delle vere falsità, anche di natura dottrinale, cioè ritenere che è vero, tutto quello che accade nel mondo accade sotto lo sguardo indifferente del Signore. Invece no, il Signore vede tutto e permette anche il male perché l'uomo possa avvedersene e cambiare. È possibile ritenere che la Chiesa Cattolica abbia abdicato ad alcuni dogmi per rendersi funzionali a questo nuovo progetto di globalizzazione che comunque non prevede dogmi, che deve per forza annacquare identità, credi, fedi. È possibile che la Chiesa abbia fatto questo, la Chiesa di oggi, per rendersi funzionale a questo nuovo sistema geopolitico che si regge anche su alcune priorità spirituali? Sicuramente, però è bene dire più che la Chiesa Cattolica, diciamo agli uomini che oggi in qualche maniera occupano i posti chiave, sono loro che in qualche maniera sembrano allineati con questa vulgata, è vero, portata avanti dai cosiddetti esponenti della decrescita, per cui il vero problema è non fare figli, siamo troppi, ma quest'antifono la conoscevamo, è vecchia, già dagli anni 60-70 veniva suonata, però poi abbiamo visto che proprio questa decrescita è stata infelice, perché l'economia si regge sull'incremento demografico, perché venendo meno l'incremento demografico, cioè i giovani, viene meno anche il consumo, si sa notoriamente che gli anziani consumano molto di meno in tutti i settori, quindi una società che diventa anziana e vecchia è destinata a morire, tant'è vero che poi per rimediare a questa teoria hanno detto che c'è bisogno degli immigrati, perché gli immigrati colmano il vuoto con le loro forze giovani di una società diventata vecchia, quindi senza volerlo il gioco si è scoperto. Però per quanto riguarda gli uomini di chiesa è abbastanza grave che si sostengano queste tesi, è vero, che non hanno alcun fondamento né di natura religiosa, biblica, né direi di natura sociale ed economica, se si è sinceri. Papa Francesco sta desacralizzando la Chiesa Cattolica? Questa è un'affermazione un po' pesante, cosa vuol dire desacralizzare? Vuol dire togliere di mezzo i segni della presenza, perché il sacro sarebbe nient'altro che il segno della presenza divina nel mondo, ce ne sono diversi di questi segni. Certamente una epidemia fa pensare molto. Mi hanno raccontato un episodio avvenuto, lei mi pare che trasmette dalla Calabria, Isola Caporizzuto, di un vescovo che ha celebrato una messa, un vescovo credo che sia di quelle parti anche se mi pare sia titolare di una diocesi in Sicilia, il quale nell'Omedia ha teorizzato che il Dio dell'Antico Testamento non è più quello del Nuovo, perché il Dio dell'Antico Testamento castigava, mentre il Nuovo Testamento Gesù Cristo non castiga nessuno. C'è stato un laico, evidentemente preparato che dall'Assemblea lo ha contestato e gli ha detto, ma scusi, ma se poco fa abbiamo letto una lettura proprio tratta dall'Antico Testamento, perché la Chiesa legge l'Antico Testamento? Perché evidentemente è lo stesso Dio, tra l'altro questa è un'eresia, quella di un certo marzione del V secolo che diceva che il Dio dell'Antico Testamento è diverso da quello del Nuovo. Lei pensi un fedele che si è accorto delle sciocchezze dette da questo Vescovo, che pare poi passi per essere un teologo, anche se so che è un Vescovo che più volte si è trasformato a seconda del vento, ma purtroppo anche tra gli uomini di Chiesa ci sono queste mezze figure, non bisogna meravigliarsi. Accanto ovviamente ad altre figure di tutto rispetto che hanno il coraggio di dire il vero quando va detto, senza direi né venir meno nel rispetto verso l'autorità, ma senza nemmeno, come dire, venir meno alla dignità, perché come diceva un famoso convertito inglese Chesterton, noi nella Chiesa siamo chiamati a toglierci il cappello, ma non la testa. Questa mi sembra un'ottima sintesi. Senta, le dimissioni di Papa Benedetto XVI restano ancora un mistero. Lei si è fatto un'idea precisa su questo strano passaggio che poi ha portato Bergoglio ad essere il successore di Papa Benedetto XVI e obiettivamente a dare un'impostazione molto differente alla Chiesa Cattolica. Lei si è fatto un'idea di quello che è successo? Guardi, conoscendo un po' Josef Ratzinger, avendo prestato la mia collaborazione per un bel po' di anni alla sua persona, al suo ufficio, credo che molto semplicemente Papa Benedetto avvertiva l'inadeguatezza sua ad un certo punto della sua vita rispetto al compito che aveva sulle spalle. Su questo certamente avrà influito quanto accaduto con Giovanni Paolo II, che negli ultimi anni della sua vita, come sappiamo, aveva notevolmente ridotto le sue possibilità, era quasi molto spesso sulla sedia. Quindi, certo questo può avere influito accanto alla fatica della presenza del Papa a certe manifestazioni, si pensi alle giornate della gioventù. Certo, il Papa non è obbligato ad andare dappertutto. Una volta si diceva che il Papa sta a Roma e quindi, vabbè, probabilmente oggi il Papa non può più rimanere fermo a Roma, però potrebbe anche ridimensionare notevolmente le sue presenze, cioè essere là dove è necessaria una parola. Che oggi il Papa, per esempio, parli di tutto, adesso stavo sentendo che doveva parlare pure di qualcuno, guarda Grillo, lo ha invitato a parlare delle mascherine, di quelli che non la usano, ma ci siamo rissi conto a che punto siamo arrivati. Il Papa parla di cose che non riguardano la sua funzione, il suo ministero. Cosa c'entra il Papa con l'ecologia, per esempio? Se, per esempio, veramente ci fossero, direi, posizioni e tentativi di distruggere il creato, allora il Papa può richiamare, naturalmente, se c'è questo, naturalmente, può richiamare quelli che lo facessero nella loro coscienza ad evitarlo. Ma ciò detto, tutto quello che può dire sull'ecologia non ha alcun valore scientifico, perché dovrà appoggiare qualche scuola, come purtroppo ha fatto in qualcuno dei suoi documenti e che però mostra il segno, perché chiaramente, come ben sappiamo, i pareri sull'attuale situazione della natura non è che siano concordi tra gli stessi scienziati, come d'altronde abbiamo visto nel caso della pandemia, che c'erano scienziati virologi che dicevano una cosa e altri che ne dicono altre. La Chiesa non può sposare queste tesi, che tra l'altro non le competono. Lei può dire non come si va in cielo, ma può spiegare che cos'è il cielo, può aiutare a comprendere questa verità fondamentale che riguarda la vita morale, della vita spirituale, ma non certo la verità, le cosiddette verità scientifiche. Ecco perché penso che sia opportuno che a partire dal Papa, per arrivare ai Vescovi, ripensino attentamente il loro ministero in funzione dell'unico compito che Gesù Cristo ha affidato loro, e cioè andate in tutto il mondo e portati il Vangelo a tutte le creature insegnando e battezzando. Quindi alla Chiesa è chiesto di insegnare il Catechismo, detto in due battute, e di amministrare i sacramenti. Il tutto attraverso atteggiamenti di carità, di amore, tali che attirino gli uomini a Gesù Cristo. Ecco oggi più che la salvezza delle anime, sembra prioritaria la salvezza dal Covid. Alcuni segnalano come l'agenda di Papa Francesco sia pericolosamente simile a quella del cosiddetto nuovo ordine mondiale, per usare un'immagine abusata, cioè lotta al cambiamento climatico, immigrazione incontrollata, è un pauperismo un po' di maniera, una lotta alla povertà da condurre però poi stranamente insieme a banchieri come Draghi e ad altri che hanno imposto politiche di austerity che i poveri li hanno aumentati. Insomma, lei intravede pure un certo pericolo nel sovrapporre le due agende, quella laica e quella invece cristiano-cattolica. Ma guardi, il problema è che alla base di tutto questo c'è un concetto di popolo che diciamo Papa Bergoglio persegue, che riviene ovviamente dalla sua formazione in America Latina, vicina a certa teologia della liberazione. Per cui il popolo di cui spesso parla Papa Francesco e del quale ha convocato anche degli spezzoni, ricordo ai radunni dei movimenti cosiddetti popolari in Vaticano che lui ha fatto, credo almeno un paio di volte, lui non ha un concetto di popolo di Dio come lo intendeva per esempio Paolo VI. Paolo VI diceva, quando parlava del popolo di Dio, tra l'altro riallacciandosi al Vaticano II, diceva che il popolo di Dio è una entità etnica sui generis. Cosa vuol dire? Vuol dire che il popolo cristiano non è un popolo indifferenziato, dove ci sono tutti dentro, oves et boves, credenti e non credenti, eccetera. Ma è un'entità etnica sui generis, è quasi una nazione, San Pietro la chiama nazione santa, nazione santa. Quindi cosa vuol dire? Che è separata da tutte le altre maniere di intendere la nazio, l'identità nazionale che sono nel mondo. È chiaro che questa nazione attinge a tutte le nazioni nella misura in cui gli uomini e le donne di queste nazioni si convertono a Cristo. Quindi la nazione ecclesiale, la nazio, l'entità etnica sui generis, è una nazione che è fatta di uomini e donne convertiti a Gesù Cristo, non di uomini e donne che hanno credenze varie, superstizioni, bisogni di vario tipo. Questa è la nazio ecclesiale, la Chiesa, la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Credo che convenga approfondire questo punto, perché ci si accorgerà che poi gli atti magisteriari fatti in questi anni hanno al fondo questa idea di popolo, che però non è quella cristiana. È chiaro che il cristianesimo è indirizzato a tutti i popoli della terra, ci mancherebbe altro. E quindi deve portare, lo ha detto Gesù nelle ultime parole prima di lasciare questo mondo visibilmente, ha detto andate dappertutto e portate il Vangelo a tutte le nazioni, però ammaestrandole e battezzandole. Quindi c'è questa condizione che deve essere ribadita. A cosa serve per esempio proclamare la fraternità universale, quando noi sappiamo bene che Gesù Cristo, la fraternità universale, l'ha fondata sul suo sangue, cioè sul versamento del suo sangue sulla croce. Quindi se uno non si riconcilia a contiglio, non potrà mai riconoscere l'altro. Quindi anche questo probabilmente si discuterà nei prossimi mesi, quando avremo a disposizione la nuova enciclica sulla fraternità universale. Monsignore, un certo tipo di ecumenismo, forse ecumenismo non è il termine corretto, ecco, questo modo, lei prima diceva indifferenziato di trattare le cose diverse come se fossero tutti uguali, uniti ad un certo panteismo, ad un desiderio di rendere la natura, diciamo, un'idea immanente della natura come se fosse una divinità a parte. E' il risultato oggi del predominio di alcune correnti spirituali gnostiche, massoniche, che di fatto hanno influenzato e ormai in un certo senso, come dire, attraversato la Chiesa. Cioè la Chiesa è ostaggio di alcune correnti spirituali che ormai la assorbono, in un certo senso la manipolano. Guardi, questo è stato già osservato da altri esperti, uno di questi è un noto economista mondiale, quale è Ettore Gotti Tedeschi, che è stato anche Presidente dello York, che ci sia un influsso dell'agnosi nella Chiesa, direi, proprio attraverso anche, che no, certi pensieri economici, prima facevo l'esempio della decrescita felice e così via, questo direi che è abbastanza evidente. Il punto però qual è? Che lei parlava di ostaggio, il punto è che queste influenze, queste correnti, diciamo che toccano alcuni livelli della Chiesa, diciamo quelli intellettuali e non tutti, ma non certo il popolo, perché il popolo nella sua realtà, perché la Chiesa è formata soprattutto dal popolo, il popolo che prega, il popolo che ama, il popolo che ha fede, è vero, che è la base della Chiesa. Questo popolo è la vera realtà. Invece quelle elite di cui lei faceva c'è, le gnostiche, le massoniche, eccetera, sono dei laboratori, dice Ratzinger, dove si distilla l'utopia, quindi sono laboratori pensieri intellettualoidi, diciamo, che però non hanno nesso con la Chiesa. Veda, le faccio un esempio, nel mese di febbraio si è svolta a Bari una rassegna sul Mediterraneo, mare di pace, laboratorio di sinodalità, eccetera. Bene, poi alla fine di questa settimana è arrivato a Bari, il Papa ha celebrato la messa. Bene, molti giornalisti hanno intervistato i partecipanti, i fedeli che partecipavano alla messa in piazza, diciamo, che non erano nemmeno tantissimi, perché già cominciavano le misure contro il contagio. Bene, la gran parte dei fedeli era venuta lì per il Papa, ma non sapeva nulla di questa Kermes che c'era stata alcuni giorni prima, tutta teorica, tutta intellettualoide, diciamo, sul Mediterraneo, mare di pace, tra l'altro poi in un tempo in cui la pace non esiste più, i movimenti pacifisti si sono risolti. Ecco, questo è un esempio di come a volte nella Chiesa la classe, diciamo, sacerdotale, uso un termine generico, è come la classe degli intellettuali, cioè staccata totalmente dalla realtà del popolo, che elabora i suoi programmi, i suoi piani, diciamo così, minimamente occupandosi di verificare poi che tutto questo alla base sia in qualche maniera compreso, recepito, seguito. Ecco, per cui noi adesso ci troviamo in una situazione in cui io sono stato anche recentemente in Calabria, ho incontrato diversi sacerdoti, ho parecchi amici tra i calabresi e per fortuna ho incontrato tanti sacerdoti che si pongono proprio questa questione, ma la Chiesa insegna ancora la verità, il Vangelo, la morale, cioè le cose che servono per vivere bene in questo mondo ed avere poi la vita eterna nell'altro. Ecco, per fortuna ci sono tante persone che non hanno perso il contatto con la base, con la realtà del vero popolo, il popolo cristiano, non quello astratto, quello teorico di cui parlavo prima, è vero, all'inizio di questo intervento. Il concilio Vaticano II, visto dopo tanti anni, ha prodotto anche dei frutti avvelenati o era un percorso obbligato, è giusto? No, il concilio non ha prodotto frutti avvelenati, il concilio era il ventunesimo concilio della chiesa cattolica, tra l'altro portato avanti da un episcopato di quasi 2400 vescovi, che erano tutti di formazione tradizionale, venivano dalla chiesa di Pio XII, per intendersi. Il concilio, essendo l'atto supremo di magistero della chiesa, cioè il momento in cui l'insegnamento raggiunge il vertice più alto, non può produrre frutti avvelenati. Il punto è che un concilio, come tutti i concili della storia, ne ho detto che ne sono stati fatti 21, si svolgono in tempi ben precisi, per cui diciamo che fanno come da spartiacque, tra un tempo precedente e un tempo seguente. Per cui il Vaticano II si è trovato in un momento in cui c'era il cosiddetto boom economico, miracolo economico, appena finita la seconda guerra mondiale, con le distruzioni che sappiamo, la ricostruzione. Dopo, subito dopo la chiusura del concilio, il 65 è chiuso il concilio, scoppia il 68. Il 68 sappiamo che è stato l'attacco frontale all'autorità, l'autorità in genere, Dio, la famiglia, il padre, lo Stato, etc. Naturalmente questo 68, sono già state fatte in occasione del cinquantenario, due anni fa, diverse di esamine, anche Benetto XVI ne aveva fatta una già da cardinale, hanno in qualche maniera fruito del tempo, diciamo, di ottimismo che si era instaurato col miracolo economico e quindi anche con questa speranza nuova della Chiesa, Papa Giovanni XXIII, etc., nello stesso tempo ricorderà che c'era Khrushchev, Kennedy, c'era una sorta di ottimismo un po' romantico, un po' romantico e quindi chiaramente quello che è accaduto subito dopo con il 68 ha finito per influenzare negativamente, per avvelenare, questo sì, taluni frutti del concilio, però il fatto che molti abbiano reagito e che anche oggi ci sono quelli che se ne sono accorti e che pongono mano, rimediano, come ha fatto Giovanni Paolo II e Benetto XVI, anche perché non bisogna rimanere fermi a cinquant'anni fa. Nel frattempo ci sono stati due papi, Giovanni Paolo II e Benetto XVI, che hanno sviluppato e chiarito anche certi passaggi dottrinari del concilio, segnalo soprattutto la dichiarazione Dominus Iesus del 2000, per farci comprendere che nel frattempo l'insegnamento è andato avanti. Quindi credo che oggi siamo in un tempo sì, per certi versi problematico e preoccupante, quasi di apostasia, cioè di allontanamento, di abbandono dai punti fondamentali del XIV, però nello stesso tempo è cominciata, come dire, la resistenza e si diffonde sempre di più in tutti i paesi del mondo, di coloro che se ne accorgono e con calma, con pazienza, la carità e paziente, dice San Paolo, ecco operano per il ritorno ai fondamenti. Bene, chiudiamo questa interessante, molto profonda intervista con una domanda generale. Possiamo dire, Monsignore, che prima che una guerra politica, geopolitica, è in atto una vera e propria guerra spirituale, da alcuni non colta, non capita, che però poi riesce, il risultato di questa guerra spirituale poi muta le condizioni a cascata, politiche, geopolitiche, il destino di uomini e nazioni. Guardi, la guerra, fino alla fine del mondo ci sarà sempre la guerra tra il bene e il male, lo ha detto il nostro Signore, infatti l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, è un libro che descrive questo combattimento epocale tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Quindi un cattolico sa che deve essere un figlio della luce che afferma la verità, il bene, la giustizia contro il male, la menzogna e tutto il resto. Quindi è questo il combattimento. D'altronde San Paolo lo dice, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Questa affermazione dell'Apostoli può essere un po' emblematica per tutti noi. Quindi io penso che la battaglia è tipica della vita cristiana. Diceva Sant'Ambrogio, uno dei grandi padri dei primi secoli, che la vita cristiana è una lotta. Se avrai combattuto in questo mondo, sarai coronato da Cristo. Quindi bisogna avere questa percezione della vita come combattimento, a volte lo diciamo anche noi banalmente, la vita è una lotta. Ma è una lotta in senso alto, nel senso spirituale della parola. Quindi oggi, in tutti gli ambiti, dall'economia alla politica, si deve dire la verità. Se non si dice la verità, non si favorisce la rigenerazione della società. Si deve dire dove c'è il bene, dove c'è il male. È vero. Come faceva Giovanni Paolo II, che per questo ha contribuito alla caduta di quello che Reagan chiamava l'impero del male, cioè il comunismo. Quindi sempre un impero del male, nei secoli ci sarà. Ne abbiamo avuti parecchi. Ne stiamo avendo anche oggi. Oggi per esempio c'è questa superficialità nel considerare la Cina. La Cina è uno degli imperi del male, possiamo dirlo, perché è senza Dio. Sfrutta l'uomo. Quindi come si fa a non accorgersi di questo, a essere così beoti, è vero, dal chiudere gli occhi. E quindi l'Europa poi soprattutto, che ha le sue tradizioni, le sue radici cristiane, sembra quasi prona, direi, a tutto quello che viene da quel lato lì. Quindi, insomma, c'è di che combattere, è vero. E quindi dobbiamo tutti fare la buona battaglia, io vi compreso voi, che siete operatori della comunicazione, che avete una grande responsabilità nel veicolare tutto questo, e nell'aprire di occhi alla gente, perché ecco, quel istinto che già hanno in sé delle cose che vanno, di quelle che non vanno, si strutturi meglio e sia in grado di, diciamo, di contrastare, è vero, il male. Tanto il male poi non vince, il male alla fine distrugge se stesso, perché il male per sua natura vuol dire distruzione. Quindi il male dopo che ha distrutto si autodistrugge. È vero. E quindi ecco che noi invece dobbiamo combattere con le armi del bene che il nostro Signore ci ha dato e che sono soprattutto la Sua parola salvifica, i Suoi sacramenti. Grazie, Monsignore. Mi ha fatto riflettere questo suo ultimo passaggio, dove diceva, in Cina esiste lo sfruttamento sull'uomo in mancanza di un insegnamento cristiano. Però le volevo chiedere in conclusione, qui concludo davvero, se lei ha notato che anche diciamo in Europa, in Occidente, nel nome dei mercati, nel nome del consolidamento di bilancio, insomma, abbiamo, sono state sacrificate tante vite sull'artale di un profitto economico dal volto spesso disumano. Abbiamo visto in Grecia sacrificate le categorie più deboli nel nome del rispetto dei conti. Abbiamo visto Mario Monti in Italia. Insomma, lei pensa che questa diminizzazione del denaro, del mercato, in grado di disumanizzare la nostra società, abbia fatto presa anche da noi? Beh, certamente che ha fatto presa. Questo lo sappiamo, lo vediamo. Ha fatto presa anche, direi, illudendo alcuni esponenti politici nostrani, italiani ed europei, al punto che hanno dimenticato, ecco, le radici umanistiche, personalistiche dell'Europa, che è stata fondata da dei cattolici, Adenauer, Schumann, De Gasperi, quando fondarono l'Europa, la volevano fondare non come un'accolta di associazione a delinquere, ma come una realtà di amici basata sulla fede, sulla fede cristiana. Quindi questo è stato dimenticato e questo è un messaggio anche per la politica. Recentemente il Cardinal Ruini ha detto chiaro e tondo che i cattolici che vanno in politica dovrebbero domandarsi se sono in grado di sostenere quei valori per cui sono cattolici. Perché un cattolico che va in politica e porta un'idea economica, che è un'idea liberale o un'idea, diciamo, peggio, un'idea totalitaria, un'idea di stampo vetero marxista, non porta certo in politica i valori cattolici, è vero, così come più chiaramente riguardano, si può dire, dei valori della vita, dall'eutanasia ai cosiddetti controvalori della vita, dall'eutanasia all'omosessualità all'aborto, eccetera. Quindi è evidente che c'è questo tipo di dimenticanza o di tradimento, come dicevo prima, di apostasia, cioè di abbandono di quelle che sono le verità morali del cristianesimo che peraltro sono verità umane fondate sulla verità di Cristo, perché è Gesù Cristo che ha detto la verità sull'uomo, la verità sul matrimono, la verità sulla vita, la verità sulla vita sociale e così via. Quindi ecco, io penso che tutto questo, per grazia di Dio, anche se può sembrare sparuto il gruppo dei cattolici che resiste, tuttavia sta fermentando. Io posso dirvelo perché viaggiando posso dire che in tutte le nazioni del mondo c'è questo fermento che reagisce e col passare del tempo diventerà sempre più, direi, consistente determinante. Grazie Monsignor Bux per questa intervista, speriamo di riaverla presto ai nostri microfoni. Grazie a voi e buon lavoro. Bene, cari amici di Vox Italia TV, si conclude qui questa nostra intervista. Come sapete il nostro obiettivo è quello di provare a migliorare la percezione sui fatti di attualità in maniera non manipolata per offrire a chiunque la possibilità di sviluppare un pensiero critico che lo renda libero di affrontare qualsiasi argomento respingendo e riconoscendo in radice le insidie che la manipolazione di massa spesso nasconde. Questo è il nostro compito, un compito che noi potremo continuare ad assolvere soltanto se potremo contare sul vostro sostegno perché non avendo editori alle nostre spalle, non cercandone neppure, abbiamo bisogno di ricevere contributi da parte vostra per poter tenere in piedi questa nostra televisione. La libertà ha un piccolo prezzo ma vi assicuro che vale la pena di pagarlo. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.